è tutto qua, è tutto staccante, quindi farsi il bacio di quello che fa fai un video interattivo, spero cosa stai facendo? no no, ma lei lo sa perché anche lei mi ha detto, oh sì, non ricordo, papà lo facevo però è impedita, non lo so fare è arrivato il martedì? no, è arrivato il martedì no, il mercoledì no, no, no no, 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 no sì, però dopo ci guardo mi hanno risposto ma stai già facendo? sì, stai facendo che rigiri non è sia non until è capace qui ci dispia arendo di mille parti Grazie.